eccoci 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 buonasera a tutti ragazzi benvenuti qualche secondo di attesa visto che vi vedo entrare e poi ci presentiamo qualcuno mi conosce già qualcuno no quindi bruceremo i primi minuti di attesa in una brevissima presentazione e a presentare questo fantastico appuntamento fantastico perché si parla di mare e chi mi conosce già sa che adoro il mare fotografare il mare in estate e questo webinar che ci viene offerto da ben chi è a proma store che che ringrazio e che ci permetterà di andare a vedere qualcosina di interessante magari per per sfruttare la nostra macchina fotografica al meglio durante questa estate allora chi mi sta parlando innanzitutto ciao a tutti io sono francesco poi spegnerò la webcam perché non dà grande valore aggiunto ma è giusto farsi vedere intanto che si parla quindi eccomi qua io sono francesco sono un fotografo di paesaggio di paesaggio marino diciamo più precisamente cosa vuol dire che nel mondo della fotografia di paesaggio io ho questo pallino per il mare che mi porto dietro e potete vedere potete seguirmi sui canali social che vedete qui sotto e diciamo mi occupo di questo genere di fotografia da circa una quindicina d'anni e nel tempo ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con dei brand davvero importanti tra cui appunto ben che ci offre questo appuntamento oggi qui insieme e di parlare anche di diciamo di didattica di insegnamento fotografico quando non sono a fare webinar o diciamo fare lezione mi piace girare il mondo e andare appunto a caccia di paesaggi marini paesaggi marini dal caldo al freddo insomma in giro per il mondo se volete vedere qualcosina di queste cose e delle foto che magari faccio potete andare sul mio sito che è questo qua che vedete scritto qui sotto francescogola.net nel quale vedrete oltre alle immagini che faccio che sono queste che questi sono alcuni esempi di foto che io realizzo e che troverete sul mio sito troverete anche una sezione naturalmente legata ai corsi ma anche un blog dove si andrà nel dettaglio di alcuni temi di cui parleremo adesso quindi magari poi dateci un occhio naturalmente poi potete scrivermi sentite liberi di scrivermi in ogni momento allora ma andiamo subito al sotto ragazzi perché abbiamo veramente tantissime cose di cui chiacchierare insieme e andiamo a vedere di cosa parliamo oggi tolgo la mia faccia dalla webcam in modo che abbiate possibilità di vedere meglio lo schermo ed eccoci qua allora di cosa parliamo stasera allora come abbiamo detto questo appuntamento è legato alla fotografia paesaggistica marina ed in particolare a quelle in estate non che sia particolarmente diversa da quelle in inverno però magari ci sono qualche c'è qualche piccola accortezza che possiamo prendere e parleremo fondamentalmente di quattro macro temi fondamentali che che ci accompagneranno in questi circa 45 minuti poi ovviamente sfolerò perché non riesco a stare zitto ma l'idea è di chiacchierare insieme 45 minuti di questi temi successivamente ci sarà una sessione nella quale voi potrete fare le vostre domande per fare le vostre domande dovreste avere un pannellino di richiesta domande nel quale appunto inserite potete inserire la vostra domanda e grazie al fantastico supporto dei ragazzi bank you che che sono qua con noi poi mi passeranno le domande e vedremo insieme allora parliamo di pianificazione questa questo oggi parliamo di attrezzatura di impostazioni e di analisi di scatto quindi parliamo un po di e diciamo in tutto questo c'è anche un po di post produzione ma come potete capire diciamo il il cuore del tutto è legato alla fase di scatto oggi e tutta la fotografia che andremo a vedere ovviamente non è diversa da un qualunque altro genere di fotografia paesaggistica però magari appunto vi posso dare qualche trucchetto in più che vi tornerà comodo magari nel vostro viaggio queste estate che altro dire nulla direi che possiamo partire con appunto la pianificazione la pianificazione che per me è veramente un aspetto fondamentale della fotografia paesaggistica e veramente questa frase che riporto qua è sicuramente quello che io penso che sia il cuore della pianificazione cioè che è un obiettivo senza un piano è solo un desiderio sì perché che si tratti di diciamo della fotografia di lunghe esposizioni che sono come avete visto un po il genere che piace me ma ripeto questa sera noi parliamo di fotografia paesaggistica marina in senso lato quindi tutto quello che che riguarda uno scatto che potete andare a fare il mare secondo me c'è c'è tanta pianificazione in uno scatto o in ogni mio scatto perché perché diciamo la parte veramente in campo è una piccola fettina del tutto nel senso se noi vogliamo avere la possibilità vogliamo cercare di essere al posto giusto al momento giusto beh possiamo senza dubbio affidarci alla fortuna ma vedremo insieme che possiamo magari creare c'è la fortuna o comunque invogliarla a venire da noi come si quali sono i passi dei passi fondamentali della pianificazione come come si svolge una pianificazione fotografica allora secondo me esistono tre punti principali che dovreste tenere sempre in mente che sono abbastanza basilari e li vedrete ovvi all'inizio il primo è certamente quello di definire un obiettivo che vuol dire veramente cosa volete fotografare potrebbe essere che ne so che vedete un faro sull'etichetta di uno shampoo e volete andarlo a fotografare è una cosa che vi giuro che è successa a me piuttosto che dire quest'estate vado al mare nel nel tal posto vediamo che occasioni fotografiche ci possono essere che magari è qualcosa di più realistico a questo punto il passo successivo sarà quello di cominciare a raccogliere informazioni su sulle nostre diciamo sulla nostra location fotografica che abbiamo selezionato o nella quale sappiamo che ci troveremo perché tante volte magari non è neanche il viaggio che avevamo proprio pensato in occhio fotografico ma magari troveremo qualcosa di interessante e perché no divertiamoci un po a portare a casa lo scatto e alla fine l'ultimo passo che è un po quello fondamentale che una volta raccolte tutte queste idee queste grandi informazioni sulla location desiderata beh a questo punto dovremmo cercare di scegliere quale è lo spot giusto a seconda di determinate cose in modo appunto come dicevamo prima di massimizzare la diciamo la possibilità di portare a casa un buono scatto se la definizione dell'obiettivo appunto è una tra virgolette banalità nel senso che o volete fare un viaggio per fotografare qualcosa oppure vi trovate in un viaggio e volete tirare fuori il meglio di quella cosa sicuramente il passo fondamentale che dobbiamo fare quello dell'avvantaggiarsi dell'esperienza degli altri ovvero a meno che non voi non andiate a esplorare il zone remote del nostro pianeta è molto probabile che qualcuno sia già stato nei luoghi che andrete a visitare quindi il primo consiglio pratico che vi do è cercate attraverso dei siti di condivisione di immagini fotografiche qua ne ho riportati un paio ma ce ne sono un miliardo lo sapete cercate di andare a fare quello che si chiama scouting digitale ovvero di andare a cercare di appunto andare a visualizzare immagini fotografiche o quindi di buon livello o anche semplicemente immagini del luogo di dove andrete a a fotografare una una cosa molto interessante che ormai la fotografia ci c'è la tecnologia ci permette di fare è quello di utilizzare le immagini satellitari che ormai sono arrivate a un livello che possono diventare una rappresentazione tridimensionale il mio consiglio quando avete sotto mano il vostro cellulare piuttosto che il tablet o anche sul computer stesso scaricatevi google earth che è l'applicazione di google che penso sia assolutamente famosa e conosciuta a tutti e è gratuita che vi permette appunto di andare a curiosare negli spot fotografici che andrete a visitare e per alcune aree questa ad esempio una che ho visitato non troppo tempo fa in spagna come vedete avete una ricostruzione tridimensionale della zona quindi cominciate già a farvi un'idea di dove andrete a scattare le vostre foto quindi potete cominciare a dire ma c'è una spiaggia se faccio la foto dalla spiaggia magari mi serviranno gli stivali piuttosto che posso fare una foto dall'alto quindi meglio avere degli scarponcini insomma potete cominciare a fare qualche considerazione e farvi qualche idea di quello che poi andrete a fare in campo ora qual è il grosso del qual è il problemone il problema è che sicuramente voi comincerete a collezionare così tante informazioni che ad un certo punto diventerà difficile utilizzarle nel senso che sarà veramente difficile discriminare un posto piuttosto che un altro per andare a fare le vostre foto io vi consiglio di utilizzare quelli che io definisco i quattro pilastri della pianificazione che sembrano un qualcosa di mitologico e secondo me qualche qualcosa di mitologico ce l'hanno davvero questi quattro pilastri sono il tempo il tempo inteso come cronos chiamiamolo così l'effemeridi quindi il tempo non intenso meteorologico ma quindi tempo effemeridi maree e meteo e adesso andiamo a vedere come ciascuna di queste può veramente fare la differenza nei nostri scatti fotografici al mare se noi appoggeremo diciamo virtualmente per lo meno le nostre immagini su questi quattro pilastri avremo maggiore possibilità di portare a casa il nostro scatto partiamo dal tempo allora il tempo appunto non il tempo meteorologico ma il tempo cronos è fondamentale perché sostanzialmente ha due ripercussioni fondamentali la prima è che la scelta dell'orario in cui scattiamo la foto può far variare di molto la foto e quindi la scelta del cosiddetto momento fotografico poi la seconda ragione è che a seconda di quanti momenti fotografici dispongo nel mio viaggio io posso avere un certo numero di scatti ad esempio in questa allora se adesso andremo a vedere per quanto riguarda quali sono i momenti fotografici principali che sono sostanzialmente la golden hour quindi l'ora l'ora d'oro che sono la prima e l'ultima ora di luce la blue hour che è l'ora blu quindi appena prima dell'alba e appena prima dopo il tramonto e la notte fonda questi sono diciamo tre momenti fotografici fondamentali che che potete sfruttare nel corso delle vostre uscita fotografica paesaggistica marina poi dovete considerare che a seconda del viaggio che fate potete avere a disposizione nell'arco della stessa giornata un numero limitato di questi momenti fotografici cioè di alba al giorno ce n'è una e di tramonto ce n'è uno quindi se ci avete due soli purtroppo c'è un problema più grosso che fare la foto quindi ad esempio questo è un esempio di il classico weekend lungo che in cui potreste trovarvi nel quale il primo giorno si viaggia il secondo il primo giorno la mattina viaggiate e la sera avete il tramonto nel secondo giorno abbiamo un albero un tramonto il terzo giorno albe tramonta ancora e il quarto giorno si si riparte ora vi chiedo scusa perché vedo che la grafica è un po' stata sfalsata però si dovrebbe capire quindi sostanzialmente noi abbiamo tre tramonti e due albe quindi abbiamo tre momenti fotografici di golden hour se è quello che voglio andare a fotografare quindi il tempo è una variabile da tenere veramente in considerazione perché in questo caso io appunto ho cinque possibilità fotografiche ma cosa sono questa golden hour blue hour e la notturna insomma quelle che vi ho rappresentato qua allora la golden hour è considerato da molti e io sono onestamente uno di questi è considerato uno dei momenti fotografici per eccellenza perché è quello che è legato al caratterizzato dai toni caldi della luce che abbiamo nella zona di tramonto e nella zona di alba il consiglio pratico che vi do anche quando avete delle situazioni di golden hour cercate di non mettere necessariamente nella vostra inquadratura la palla del sole frontale perché perché questo potrebbe essere abbastanza problematico nel senso che vi troverete una un'immagine con un punto bruciato quindi magari pensate a delle composizioni dove avete il sole laterale piuttosto che che frontale e ricordate anche che appunto una stessa location può essere completamente diversa sia dall'alba che al tramonto ma anche durante ad esempio un'alba invernale è un'alba di estate perché perché appunto come vedremo tra poco c'è un tema da tenere in considerazione ovvero che è la posizione delle degli astri compreso il sole quindi varia al variare del del nostro anno poi abbiamo il un altro momento fondamentale che è quello del quello dell'ora blu che è fondamentalmente quel tempo quel periodo antecedente all'ora d'ora all'alba appena successivo dell'ora d'oro al tramonto è quello caratterizzato dai classici toni freddi quindi quando dite il sole tramontato ma non è ancora buio pesto no cioè quindi è caratterizzato da questi toni freddi e questi toni funzionano veramente molto bene quando ad esempio volete fotografare che ne so il mare con un villaggio perché ci sarà questo contrasto di luci calde del villaggio con il blu freddo e la luce fredda del del mare e del cielo in questi casi vi consiglio due cose in particolare la prima è quella di magari di tenere se utilizzati filtri ci esistono dei filtri che permettono di ridurre l'inquinamento luminoso ovvero quello che vi permette di catturare il vero colore dell'ora blu e non l'alone giallastro del del paese e poi considerate che poiché la luce è minore si allungheranno un pochino i tempi di scatto quindi magari avere un piccolo cavalletto può fare la differenza non vi serve roba super costosa per mente un piccolo cavallettino per tenere la fotocamera stabile quello che serve poi quando il cielo si fa buio abbiamo veramente tantissime altre possibilità fotografiche che ci permettono di avere come soggetto principale il cielo questa non è una foto come evidentemente potete vedere di paesegistica marina ma è per dirvi che insomma la notte ci permette veramente di gustarci dei un po di tempo all'aperto con la nostra macchina fotografica ed estate di poter immortalare la via lattea con il centro galattico quindi di creare foto veramente successive ovunque fondamentalmente voi siate anche qui l'inquinamento luminoso è purtroppo veramente intenso in particolar modo in italia quindi ancor più qua vi consiglio l'utilizzo di filtri fotografici che vi permettono la rimozione di questo di questo inquinamento proseguiamo dicendo che in realtà quello che vi ho detto il momento fotografico non è il cento per cento del tutto ci si può fare una bellissima foto in un qualunque altro momento della giornata ad esempio questa foto è stata scattata credo a mezzogiorno tra mezzogiorno e luna del pomeriggio mentre una tempesta passava sopra il golfo quindi macchina fotografica sempre pronta anche qui se avete qualche filtro potete utilizzarlo e vi divertirete sicuramente e il pilastro numero due che vogliamo andare a vedere insieme è quello legato all'effemeridi ovvero come vi dicevo il sole all'alba e al tramonto come se ci pensate è abbastanza normale non non tramonta e sorge sempre nello stesso punto ma si varierà varierà la sua posizione nel corso dell'anno e come facciamo a sapere quando e dove sarà il sole in una determinata posizione allora ci sono per fortuna delle applicazioni che ce lo dicono ce ne sono davvero tante io vi consiglio fotopils che è un'applicazione che potete scaricare sul vostro cellulare che vi permette appunto di visualizzare la vostra posizione ad esempio come vedete in questa mappa c'è un pin e vi permette di andare a individuare nel dato momento quindi nel dato giorno alla data ora dove sarà il sole in quel momento e dove tramonterà quella sera o sorgerà la mattina dopo insomma quindi anche qui vi permette di andare magari se avete la possibilità di essere un giorno prima sul campo o addirittura senza doverci andare prima vi permette di vedere già se una composizione magari funziona bene o no perché avete la luce laterale piuttosto che la luce frontale o alle spalle il terzo pilastro è quello del legato al mare questo è un pilastro che chi fa foto in montagna per fortuna non si deve preoccupare però tenete conto che in particolar modo se voi andate in località che sono fuori dal mal mediterraneo dove da noi la marea non esiste i moti di maree possono veramente influenzare il paesaggio ci sono location nelle quali potete avere una differenza tra altre bassa marea di 7 8 metri e come capite è oltre una questione di sicurezza anche qualcosa che impatterà nella vostra immagine ci sono tanti siti applicazioni che vi permettono di vedere come sarà la marea quel giorno guardatevi perché voglio dire possono veramente fare la differenza questo è uno type for fishing e lo potete raggiungere all'indirizzo qui sotto queste sono due foto di una location queste sono proprio robuttati qua quindi perdonatemi se non sono particolarmente carine le foto ma è solo per far vedere che è una stessa location con la bassa marea e con l'alta marea è completamente diversa quindi se voi sapete in anticipo che ci sarà basso alta marea potete trarre vantaggio dal luogo ad esempio qua penso che siamo tutti d'accordo che un'alta marea un po più accattivante se invece fosse stata una spiaggia magari sarebbe stato più bello sfruttare la bassa marea con le rocce e i sassi e la sabbia bagnata però come sempre dobbiamo adattarci alla situazione l'ultimo pilastro che di cui vi parlo è quello da del meteo teniamo in considerazione che come sempre madre natura decidere nel senso potete essere nel posto più bello del mondo dove sole tramonterà esattamente lì nell'ora che avevate pensato però poi se c'è brutto tempo oppure non c'è neanche mezza nuvola purtroppo magari la foto non verrà come l'avevate in mente quello che possiamo fare però è avere una certa possibilità di prevedere come sarà il meteo attraverso l'utilizzo innanzitutto attraverso l'idea che le previsioni non sono necessariamente tutte esatte per un determinato periodo di tempo quindi ci sono previsioni a lungo termine che hanno un certo grado di affidabilità medio termine che sono più diciamo più realistiche però non ci danno un dettaglio spinto e poi quelle di breve termine tanti siti tante caratteristiche differenti tenete in considerazione che il meteo è sempre in evoluzione quindi sfruttate i vari siti che trovate l'applicazione che potete scaricare e importantissimo sfruttate quello che è diciamo il gioiello della tecnologia cioè i satelliti e i satelliti meteo in questo caso perché ci sono delle applicazioni come questa che vi faccio vedere qui con uno screenshot e con il link vi permettono fondamentalmente di andare a visualizzare quello che sarà quello che è sopra la vostra testa e quello che sarà nel breve periodo quindi potete capire se andare magari tra due location su cui arrivati in dubbio in una piuttosto che nell'altra ora per la pianificazione l'ultimo veramente consiglio che vi do è tenere a mente questa frase che a cui sono veramente esaffezionato da sempre cioè nessun piano di battaglia resiste al primo colpo di cannone cosa significa che potete fare tutta la pianificazione che vorrete ma la cosa più importante sarà aver la capacità di adattarci quando saremo in campo però più pianificazione avremo fatto più piani b avremo in tasca pronti da sfoderare quindi ancora una volta ragazzi la pianificazione è davvero un tema fondamentale che vi invito con queste con queste poche parole a prendere in considerazione magari approfondire se se siete interessati parliamo adesso invece del secondo nel secondo grande tema cioè l'attrezzatura ma cosa ci serve per fare delle buone foto al mare allora non credete che vi serva molto nel senso che veramente io sono anche del partito poche cose ma buone allora infatti innanzitutto questa frase non esiste attrezzatura perfetta esiste quella che si adatta meglio al nostro scopo non esiste la fotocamera che fa tutto o che ha tutte le funzioni del mondo ci sono fotocamere che sono più indicate per qualcosa piuttosto che per qualcos'altro ma come vedrete le caratteristiche vi consiglierò io adesso sono senza ombra di dubbio abbastanza trovabili in ogni macchina fotografica parliamo appunto partiamo dal corpo macchina secondo me un corpo macchina deve avere tre caratteristiche fondamentali che vedremo insieme il primo è che abbia la modalità di scatto bulb e l'associate subito alle lunghe esposizioni ma vi dimostrerò che non è solo per quello un sensore con ampia gamma dinamica e vedremo di capire cosa vuol dire e che sia resistente alle intemperie allora partiamo con la modalità bulb allora la fortuna che ogni macchina fotografica ormai anche i cellulari credo che l'abbiano la modalità bulb è quella che vi permette di estendere il tempo di scatto della vostra macchina fotografica oltre i 30 secondi programmabili questo cosa ci permette di fare ci permette senza dubbio e lo dico per primo per per deformazione professionale permette di creare le lunghe esposizioni ovvero di far sì che foto come queste in cui gli oggetti in movimento diventano sfumati quindi le nuvole abbiano questa dinamicità e il mare diventi setuoso e le cose ferme restano ferme nel senso che se si muovono è un problema nel senso che o non avete messo bene la macchina sul cavalletto o sta cadendo giù tutto ed è meglio che corriate via però ci sono altre situazioni per utilizzarla ad esempio fulmini star trail quindi catturare il cielo stellato in un modo più creativo così come utilizzare una lampada per fare light painting oppure fuochi d'artificio che come sapete nel mare in periodo estivo è qualcosa che vi potete trovare quindi aver la massima libertà sui tempi dell'otturatore fa la differenza per per divertirsi in campo la seconda caratteristica abbiamo detto che è la gamma dinamica ma cos'è questa gamma dinamica che ogni tanto si cita e sembra qualcosa di incomprensibile è molto semplice nel senso che voi quando guardate una scena con i vostri occhi siete in grado di vedere allo stesso modo le aree chiare e le aree scure della scena cioè vedete dettagli sia nelle ombre che nelle luci entro un certo limite è chiaro che se guardate il sole non è cosa da fare ma per la nostra macchina fotografica è un pochino più complicato e questo limite è dato dalla gamma dinamica ovvero appunto da questa capacità di vedere allo stesso modo nelle aree chiare e nelle aree scure della scena con queste immagini potete vedere la differenza ovvero un'immagine che viene esposta per il primo piano avrà i dettagli delle ombre ben evidenti però perderemo i dettagli nel cielo al contrario se esporremo per il cielo che è più luminoso avremo il cielo vedrete che vengono fuori i dettagli delle delle nuvole che c'erano che si intravedevano di qua però qua vengono proprio fuori bene mentre il diciamo il primo piano resta in ombra quindi cosa facciamo ci avvanteggeremo magari di filtri che ci permettono di estendere le capacità della gamma dinamica della nostra macchina fotografica e lo vedremo tra poco infine la resistenza alle intemperie anche qua per fortuna tutte le macchine fotografiche hanno ormai dei corpi che si chiamano weather resistant quindi resistente alle intemperie d'estate fortunatamente non dobbiamo preoccuparcene tanto ma considerando che se prendete la macchina fotografica poi non la cambierete per andare a fare un viaggio in inverno vi consiglio di prenderla subito ben protetta anche dalle intemperie che ormai ripeto si trovano bene per quanto riguarda gli obiettivi per la fotografia paesaggistica marina io vi consiglio di utilizzare lenti grandangolari e che abbiano una buona qualità ottica con ancora una volta la resistenza alle intemperie per quanto riguarda la qualità ottica penso che non non si debba stare molto a discutere nel senso ovviamente più possiamo spingerci e darci una lente migliore meglio sarà perché ci permetterà di ottenere immagini più nitide magari senza distorsioni per quanto riguarda la lunghezza vocale questa è una scelta naturalmente però è chiaro che se voi ci pensate quando siete al mare state guardando un bellissimo paesaggio è chiaro che con la vostra con i vostri occhi e muovendo la testa riuscite a catturarlo tutto purtroppo con la vostra macchina fotografica è un obiettivo da 50 mm non è possibile allo stesso modo allora vi chiedo scusa perché mi si è chiusa la finestra di go to webinar che è quello che ci permette di essere qui ora cerco di recuperarla io vado avanti a parlare se non vedo altre ok dovrebbe essere tornata perfetto ok andiamo avanti andiamo avanti e sulla lunghezza focale appunto quello che vi volevo dire cercate di stare con una lente più grandangolare possibile magari e quando scattate ricordatevi che a croppare un'immagine quindi a ritagliarla dopo si fa sempre in tempo a mettere quello che avete tagliato in fase di scatto non si può questo è un banalissimo esempio su una su un'immagine che scatta scattata a 21 mm con la simulazione di come sarebbe stata a 24 mm magari era bella uguale non c'erano problemi però io vi consiglio di tenere a conto del fatto che magari se 21 funziona meglio poi non potete ripensarci quando siete a casa ovviamente un altro importantissimo elemento legato all'attrezzatura è quello dei cavalletti cavalletti che secondo me devono avere tre caratteristiche fondamentali che sono la stabilità il materiale costruttivo e la compattezza stabilità perché sicuramente se andate magari in un in una location allora mi danno indicazioni che non si vedono le slide allora chiedo conferma scusate dovrebbe esserci un piccolo problema tecnico allora ok dovremmo aver ripristinato la visibilità delle slide chiedo alla regia conferma e spero che si vedano e spero che non vi siate persi nulla ok dovrebbe vedersi non vedo conferme di no e allora torniamo a parlare dei nostri cavalletti sulla stabilità se andate in zone ventose potrebbe essere complicato avere un cavallettino di quelli ultracompatti se andate ad esempio in scozia tenetamente che ci saranno eh zone ventose se andate su delle scogliere se andate invece sulla costa italiana potete eh sicuramente farne a meno di cavallettoni eh ingombranti eh e che magari è difficile trasportare eh per quanto riguarda i materiali alluminio carbonio sta un po' a voi nel senso l'alluminio è un po' più pesante però è più economico mh tecnicamente non fa la differenza la compattezza è senza dubbio legato eh al fatto che ehm se dovete appunto trasportarla in in aereo guardate bene che da chiuso magari ci stiano il bagaglio a mano perché vi permette di ehm eh diciamo di di trasportarlo con magari senza dover instivare allora eh se non abbiamo visto insieme la slide ora mi mi grazie Alberto che mi dice che non è stato possibile vedere la slide precedente faccio un passo indietro quella che vi dicevo era legato al alla lunghezza focale eh cioè di questa immagine che è stata scattata a 21 mm però ehm se ehm appunto noi la scattavamo 24 mm ci perdavamo tanto intorno questo tanto intorno una volta a casa non potevamo recuperarlo però se noi scattiamo un po' più larghi come si suol dire quindi stiamo a 21 mm a ritagliare diciamo eh fa fa sempre facciamo sempre in tempo quindi perché no bene 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 eh ora ritorniamo al slide successivo allora parlavamo di cavalletti e e questo sono due tipologie di cavalletti che eh volevo farvi vedere nel senso c'è quello che chiamo setup nord che è magari un cavalletto veramente che è costoso in carbonio con gli arpioni fatto per andare tanti gradi sotto zero che magari non è necessario per la nostra fotografia per andare a farci una bella vacanza al mare ci basterà un cavalletto ben più modesto che in una zona eh questa è una foto scattata da 5 terre dove a meno che non ci sia la tempesta perfetta eh non avremo problemi di vento e anche una macchina fotografica grossa come una Nikon V850 eh con una lente grande angolare quindi magari non con il teleobiettivo può funzionare eh e può funzionare bene quindi cavalletto importante secondo me tenetelo dentro in un budget accettabile non spendeteci troppo gli accessori sono importanti gli accessori e eh tra tutti mh soprattutto se poi volete provare ad allungare i tempi di scatto se volete giocare la notte light painting così un un telecomandino può fare la differenza telecomandino che io vi prendi vi consiglio di prendere con una connessione cablata perché con l'infrarosso ogni tanto fanci lecca e quando non funziona eh poi è difficile farlo funzionare quando vi serve e se poi in particolare amate appunto il mondo delle lunghe esposizioni uno di quelli programmabili io vi dico non non buttatevi a soldi negli accessori originali nel senso che anche con con pochi euro si prende su Amazon dei grandissimi eh e ottimi telecomandi che vi accompagneranno per anni ed anni ed anni infine no in realtà non è un infine però un'altra attrezzatura molto importante da tenere in considerazione è quella dei filtri perché ehm l'abbiamo detto prima ci potrebbero servire in determinate occasioni che abbiamo visto prima e adesso vedremo in quali altri ci possono servire le caratteristiche che noi dobbiamo assolutamente tenere in considerazione sui filtri è la qualità ottica come prima cosa nel senso voi state mettendo un qualcosa davanti a un obiettivo di migliaia di euro e ad una fotocamera di altrettanti migliaia di euro magari quindi magari bene mettere qualcosa che non rovini la nostra immagine poi che abbiano magari dei rivestimenti superficiali che ci permettano magari ad esempio di eh non avere problemi con i raggi infrarossi e magari qualcosa che sia anche pratico da utilizzare in campo il problema dei filtri è che ci sono un miliardo di filtri in commercio ci sono diverse tipologie eh vi invito ad andare sul mio blog perché non possiamo approfondire magari qua proprio tutti i dettagli di questo campo vastissimo però considerate che i filtri sono degli ausili che vi permettono veramente di eh estendere le potenzialità della vostra macchina eh fotografica e vi permettono di divertirvi di più in campo che in post produzione ci sono quattro fondamentali filtri eh il filtro vi vi chiedo scusa il filtro vi che è quello che utilizziamo principalmente per proteggere l'obiettivo eh è che diciamo l'unica vera funziona appunto quello da una protezione meccanica dell'obiettivo quindi se lo sbattiamo così si romperà al massimo il filtro vi e non si romperà eh l'elemento più esterno del vostro obiettivo poi abbiamo i filtri GND che sono dei filtri che ci permettono di incrementare la gamma dinamica vi ricordate che prima abbiamo detto che eh la gamma dinamica è quella cosa quella caratteristica della macchina fotografica che eh definisce quanto la macchina è in grado di vedere nelle zone chiare e nelle zone scure contemporaneamente bene voi dovete pensare al filtro GND esattamente come a degli occhiali da sole occhiali da sole che andando a coprire la parte più luminosa dell'immagine permette alla macchina fotografica di vedere tutto qui vedete un esempio di questo questa è una foto grazie grazie e ragazzi dovreste sentirmi ora vi chiedo scusa ma non lo so è partito l'audio ora dovrebbe sentirsi ricevo conferme che si sente ehm non so dove vi siete fermati eh sei filtri UV o stavamo già parlando dei GND eh come sempre Alberto mi sta aiutando e quindi ti ringrazio se mi dici fino a dove avete sentito così riprendiamo da lì ok stavo stavo parlando dei GND ok ehm perfetto allora stavamo parlando dei GND e parliamo del dell'importante ovvero che come vi dicevo questa foto è stata scattata con un iPhone a questo faro questo faro che quindi ho esposto il mio cellulare ha messo a fuoco ha emesso l'esposizione su questo faro quindi eh come vedete a causa della limitata gamma dinamica della macchina della della macchina fotografica in questo caso dell'iPhone eh che non riesce a vedere come i miei occhi quindi non riesce a vedere allo stesso tempo tra le aree chiare e scure della scena eh vede tutto bianco ora se io utilizzo un filtro GND abbiamo detto il filtro GND sono eh gli occhiali da sole della macchina fotografica noi possiamo andare a scurire quello che è la parte più eh più chiara della scena e come vedete come per magia riappaiono le nuvole quindi il filtro GND se eh vi intriga la fotografia paesaggistica in generale quella marina sono qualcosa che dovrete tenere in considerazione poi abbiamo i filtri GND che sono quelli che ci permettono di estendere i i tempi di scatto e adesso vedremo un esempio così come vedremo un esempio dei filtri polarizzatori che sono tra i filtri più amati e anche il primo filtro che vi consiglio di prendere se proprio non ne avete perché sono quelli che vi permettono di rimuovere i riflessi dalle superfici ehm andiamo a vedere i filtri in azione allora il filtro GND è quello che dicevamo prima quello che ci permette di estendere i i tempi di scatto oltre i trenta secondi qua è una foto scattata a due minuti due minuti che mi ha permesso di catturare il movimento del mare e delle nuvole e delle tempeste in arrivo e eh quindi di catturare un po' la drammaticità della scena secondo me ehm e poi il polarizzatore come dicevamo il polarizzatore altro grandissimo filtro eh grandissimo filtro perché come vedete permette di rimuovere i riflessi dalle superfici d'acqua e quindi riuscite a rivelare il vero colore del mare questo è perché l'ho chiamato un filtro indispensabile ve lo consiglio soprattutto per la paesaggistica marina perché effettivamente in montagna al mare non c'è ci sono i raghetti però se arriva il mare in montagna anche qua il problema è un altro ehm vi permette di rimuovere i riflessi riflessi che non è possibile rimuovere in post produzione quindi o lo fate in campo o non lo fate più quindi da segnarvelo assolutissimamente secondo me eh il bello dei filtri è che poi si possono utilizzare insieme no anche le immagini prime in realtà sono state fatte con più filtri contemporaneamente quindi il mondo dei filtri è un mondo bello vasto ehm magari non entrateci a a gamba tesa subitissimo prendete e tenetevi a mette che esistono che potete utilizzarli magari per la vostra prima uscita pensate a un filtro polarizzatore poi magari date un occhio ancora una volta al mio blog ci sono diverse guide su su come utilizzarli se volete utilizzarli per per davvero poi una volta che ragazzi si torna a casa dobbiamo guardare le nostre foto e cominciare a post produrre eh il monitor è sicuramente uno degli aspetti più cruciali e allo stesso tempo più sottovalutati perché si pensa sempre che beh ma se io vedo le immagini bene sul mio monitor la vedono tutti questo è veramente sbagliato perché bisogna lavorare con quella che viene cosiddetta gestione del colore ovvero una serie di accorgimenti per far sì che quello che vedo io sul mio monitor sia quello che cercano di vedere anche quello che vedono anche gli altri e soprattutto se poi io vado a stampare la mia immagine magari che mi permetta di stamparla nel modo corretto il monitor è alla base di di questo ecosistema e eh deve avere determinate caratteristiche questo non è un webinar sul sul monitor anche qua potremmo parlarne per ore però se devo darvi tre pillole o tre parole vi dico wide gamut che vuol dire eh ampio gamut cioè capacità di riprodurre tanti colori e che non è così scontato credetemi calibrazione hardware cioè questi colori che io eh riesco a riprodurre li devo riprodurre in modo il più fedele possibile il più corretto possibile e uniformità ovvero che non è che a seconda di dove posiziona la foto sullo schermo mi cambia i colori della foto quindi attenzione a questi tre parametri per questo motivo io nel mio studio utilizzo fondamentalmente solo monitor della BenQ utilizzo un sv svw lo chiamo sv non so perché ma svw321c e l'sw271c che sono monitor di ultima generazione che veramente vi permettono di ottimizzare le vostre foto sia per le pubblicazioni online che per la stampo per il semplice piacere di vedervi la vostra foto che secondo me è un'altra delle cose sottovalutate ma che io vi vi straconsiglio ok ora cerchiamo di recuperare un pochino il tempo perso ma siamo siamo sul buon punto nel senso che ora sappiamo come eh utilizzare cioè sappiamo che attrezzature ci serve sappiamo che dobbiamo pianificare un pochino cerchiamo di capire cosa impostare sulla nostra fotocamera per riuscire a catturare al meglio le nostre immagini al mare e lo facciamo partendo da quello che è il cosiddetto mio sweet spot cioè il mio punto dolce ovvero eh quali sono le impostazioni che utilizzo più frequentemente allora ehm lo vedete qua vi vi consiglio se volete se volete poi riparlarne dopo se vogliamo discutercene dopo di farvi uno screenshot insomma di vedere di confrontarlo con quello che eh fate voi io utilizzo fondamentalmente diaframmi che sono all'intorno del dell'f11 poi andremo nel dettaglio di queste cose eh utilizzo l'isonativo della macchina fotografica anche qui vedremo perché tempi di scatto che vuol dire niente a tutto perché vi metto da mezzo secondo a due minuti e capite che in mezzo c'è veramente un mare la misurazione a matrice messa a fuoco possibilmente iperfocale che fa paura a questa parola ma vi darò un trucchetto pratico e poi magari approfondiremo in futuro la ehm la cosa e il il file in modalità raw e andiamo a vedere queste cose un attimino nel dettaglio partiamo dalla più facile il file si eh deve registrare sulla macchina fotografica in raw e non c'è una spiegazione per questo no ce n'è di spiegazioni scherzo però eh ricordate che nel momento in cui voi non scattate salvate una foto in jpeg sulla vostra macchina fotografica eh fondamentalmente fate fare la la post produzione di tutta la foto alla macchina fotografica e quando scaricherete la foto sul vostro computer potete fare poco o niente quando noi salviamo la nostra immagine in raw in realtà noi salviamo un pacchetto di informazioni vastissimo che nel momento in cui possiamo scarichiamo sulla nostro computer possiamo davvero tirare fuori quello che abbiamo visto in campo possiamo eh trasformare veramente un pacchetto di numeri in una bellissima immagine questo è molto eh importante eh per quanto riguarda il diaframma come sapete la macchina ci permette eh di selezionare in realtà l'obiettivo ci permette di selezionare diaframmi che possono andare da tutto aperto f1 e 4 ci sono anche obiettivi che vanno a zero virgola fino a f22 non l'ho citato perché c'è un motivo quello che è importante da tenere in considerazione è che eh in una foto al mare comunque una foto paesaggistica noi quello che vogliamo fare è massimizzare la profondità di campo profondità di campo che vuol dire avere tutto a fuoco perché perché a meno che non abbiate intenti creativi eh se voi ci fate caso quando voi guardate con i vostri occhi una scena eh in realtà voi mettete a fuoco solo il punto che state guardando ma eh il vostro cervello è veramente in gamba nel senso che muovendo gli occhi e insomma tutto il sistema ottico vi vi dà la diciamo l'illusione che tutto quello che state vedendo è a fuoco e e quindi è un qualcosa che volete ricreare anche nella vostra immagine perché quando guarderete la vostra immagine stampata piuttosto che sul computer è chiaro che vorrete vedere il più possibile a fuoco quindi dobbiamo scegliere un 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 diaframma adeguato un diaframma adeguato che senza dubbio deve essere un diaframma chiuso perché più chiudo il diaframma più eh diciamo la profondità di campo eh aumenta e quindi io vi vi suggerisco di non selezionare il diaframma inferiore ad F8 eh però e e quindi voi mi direte vabbè allora io lo metto F22 F300000 che non esiste ma lo chiudo tutto eh e il problema è risolto e invece no c'è la fregatura perché eh purtroppo c'è un fenomeno ottico che si chiama diffrazione sul quale non entriamo nel dettaglio che però rovina un po' la poesia ovvero se io chiudo troppo il foro eh in realtà la mia immagine perde in nitidezza quindi quello che vi chiamavo prima sweet spot quindi il punto dolce in cui preferisco stare è quello del tra F8 a F11 che mi permette di avere un'adeguata profondità di campo per avere tutto a fuoco nella maggior parte delle situazioni e eh e poi se se non ce la faremo eh dovremo magari utilizzare qualche tecnica più avanzata però questo è senza dubbio il punto di partenza su cui vi vi suggerisco di di lavorare. Per quanto riguarda l'ISO eh anche l'ISO è un parametro importantissimo per la per la macchina fotografica e per le nostre fotografie paesaggistiche poiché eh diciamo che noi associamo spesso l'ISO al problema del rumore anche se questa è purtroppo un'affermazione un po' troppo generica e quindi dovremmo cercare di contestualizzarla e di capire eh se l'ISO e il rumore sono la stessa cosa se il rumore al male e se l'ISO dobbiamo sempre usare l'ISO più basso possibile. Diciamo che ci sono diversi tipi di rumore che possono essere generati nella vostra macchina fotografica digitale che sono il rumore a pattern di cui un esempio è questa figura che vedete qui che sembrano i corriandoli a carnevale che è tipico delle lunghe esposizioni a bassi ISO quindi tempi lunghi due tre cinque minuti con ISI con ISO relativamente bassi quindi ISO 64 ISO 100 ISO 200. Dall'altra parte abbiamo il rumore a bande che è tipico di qualunque macchina eh eh tipico dell'apertura delle ombre a qualunque ISO e questa è una caratteristica di determini della macchina fotografica quindi non ci possiamo fare nulla dobbiamo stare solo attenti che se esiste eh se abbiamo questo problema dobbiamo essere ricordarcene in modo da scattare foto al mare che non abbiano troppe zone d'ombra ad esempio. Voi avrete eh questo problema se quando aprite tanto le ombre vedrete delle bande verticali molto allineate che alterano un po' il colore e poi abbiamo il rumore casuale che è il rumore casuale è il classico rumore che viene che cresce al crescere degli ISO e quindi se i primi due il pattern e quella bande sono cose che sì possiamo controllare ma è il giusto il rumore casuale possiamo controllarlo selezionando l'ISO più adeguato alla situazione vuol dire che non sempre cioè se scattiamo a notte fonda chiaramente dovremo utilizzare un ISO più elevato anche alla blue hour magari però se noi stiamo scattando alla nostra ora d'oro eh non alziamo l'ISO se non serve davvero quindi eh io vi vi suggerisco di partire dagli ISO nativi della macchina fotografica che normalmente è ISO 100 per la maggior parte delle macchine fotografiche ISO 64 per macchine fotografiche come la mia Nikon D8 e 50 eh ISO 200 per alcune altre macchine però insomma teniamo l'ISO al al più basso possibile al più basso possibile per quel determinato momento eh per quanto riguarda i tempi questa è una assoluta eh vostra scelta che dipende da quello che volete fare potreste voler fare lunghe esposizioni come faccio io quindi l'effetto seta come viene banalmente chiamato quindi con esposizioni superiore al minuto oppure preferite magari avere degli effetti più creativi con l'onda che si infrange con la scia del mare e in questo caso eh vi suggerisco di provare a usare tempi di scatto che vanno tra un mezzo secondo e due secondi eh cosa potete ottenere? allora questa chiaramente non è una foto estiva ma in realtà era poi così inverno ma comunque eh questa è una foto realizzata con un secondo di esposizione dove vedete con un secondo io riesco a catturare le la strisciata del mare il trucco quando volete catturare una strisciata di un'onda su una roccia non deve essere necessariamente un pezzo di ghiaccio ma quando volete la strisciata del mare ricordate di scattare non quando l'onda sta arrivando verso di voi ma quando l'onda sta andando indietro in questo modo riuscirete a catturare la la scia molto importante questo eh l'effetto seta è quello che vi dicevo prima se noi utilizziamo i filtri ND quelli che permettono di allungare il tempo di esposizione eh eh potete veramente creare un mondo un universo parallelo come in questa foto dove scattando un'immagine di tre minuti ho veramente appiattito ogni eh rugosità del mare così come le nuvole che eh stavano passando su di me quindi a una vostra eh è una vostra scelta fatela ovviamente mh sperimentando in campo perché magari eh è proprio la parte più bella sperimentare credo per quanto riguarda le la valutazione sposimetrica eh come sapete la vostra macchina fotografica eh ha diverse eh modalità di esposizione allora qua mi sembra che queste che abbia riportate siano quale della Nikon perché io utilizzo una Nikon però più o meno si chiamano tutte allo stesso modo su tutte le fotocamere eh il succo del discorso è che io vi suggerisco di utilizzare la modalità a matrice la modalità a matrice che sostanzialmente effettua una una valutazione dell'esposizione della scena eh su tutta la l'immagine dando leggermente ma proprio leggermente più valore alla zona in cui avete messo fuoco al voi l'immagine perché questo lo facciamo perché eh ricordiamoci che noi in una foto al mare quando c'è un bellissimo tramonto piuttosto che allora blu la facciamo per catturare tutti i dettagli della scena quindi un'esposizione a spot eh classica valutazione sposimetrica magari per il vestito bianco della sposa al al matrimonio no il classico esempio da libro eh al mare non si applica perché perché noi vogliamo che sia tutto leggibile nell'immagine quindi noi chiediamo alla macchina fotografica di leggere una valutazione sposimetrica su tutta la scena e darci un consiglio in tal senso ehm ad esempio guardiamo un un'immagine come questa una foto come questa questa è stata scattata eh all'ora blu come vedete è una scusate all'ora blu all'ora d'oro eh come vedete infatti i toni sono molto caldi il sole stava per tramontare io vi ho detto cercate di non mettere il sole frontale e anche qui è un consiglio nel senso subito vi faccio vedere un'immagine col sole frontale certe volte non è possibile dire mettere la macchina esattamente come vogliamo eh per avere una composizione perfetta cioè il sole non lo sposti allora sfruttiamo la natura io cosa ho fatto ho aspettato che il sole si nascondesse dietro una nuvola per non averlo nell'immagine non bruciare l'immagine comunque detto questo e tornando al punto precedente quello che vogliamo fare noi è eh leggere tutta l'esposizione sulla scena eh e pertanto io ho eh utilizzato la misurazione a matrix a matrice che avendo fatto la messa a fuoco in questo punto eh mi ha suggerito una eh una valutazione sposimetrica legata a dando priorità al punto della messa a fuoco che era questo è chiaro che in una scena eh come abbiamo visto prima nel anche questo è un faro ma vi ricordate la foto con l'iPhone eh dove il cielo era bianco perché c'era tanta gamma dinamica beh anche in questo caso la situazione è abbastanza analoga eh quindi il consiglio che vi do è certamente se la scena ha una gamma dinamica molto elevata e non riuscite ad avere una lettura esposimetrica eh che che vi risolva la foto senza nessun ausilio beh allora è il momento magari di pensare ai famosi filtri gnd filtri graduati i filtri che sono gli occhiali da sole della nostra macchina fotografica ehm ultimo punto ma non importante non meno importante è legato a quello alla messa a fuoco noi abbiamo detto che eh dobbiamo cercare di eh massimizzare la profondità di campo e quindi questo lo facciamo anche con la messa a fuoco ci sono nella vostra macchina fotografica tantissime modalità di messa a fuoco eh quando voi andate a fare una foto a un paesaggio marino eh non è necessario utilizzare modalità di messa a fuoco avanzate io utilizzo la eh quella di autofocus singolo che è la più versatile in questo caso è la più semplice perché non ho oggetti in movimento non ho la macchina della formula uno da inseguire il cane che prende al volo il frisbee o cose del genere ho una scena fondamentalmente statica è sempre ancora una volta se la roccia cade è un altro problema quindi meglio non focalizzarsi sulla messa a fuoco ehm ricordiamoci che eh la messa a fuoco noi attiviamo premendo a metà corsa eh il il bottone del diciamo dell'otturatore lo scatto della macchina fotografica eh poi ci sono modalità back focus ma non entriamo in questo dettaglio adesso ehm e una volta che noi abbiamo la la nostra scena a fuoco possiamo ad esempio anche bloccare la messa a fuoco sempre perché partiamo dall'idea che magari abbiamo la nostra macchina sul cavalletto punto singolo di messa a fuoco perché ancora una volta noi dobbiamo andare a a mettere a fuoco nel punto che ci conviene di più ma qual è appunto ragazzi qual è qual è il punto che ci conviene di più prima parlavamo della tecnica dell'iperfocale di cui non entro in un dettaglio spinto perché vi farebbe venire mal di testa è mio direste però vi invito a notarvela e andare a cercare magari qualche buona guida su questo tema o o a scrivermi eh per parlare di questo tema ehm non è eh una una scienza astratta ma è sono delle regole che vi permettono di massimizzare la profondità di campo quindi avere tutto a fuoco eh scegliendo un punto di messa a fuoco opportuno però noi andiamo verso andiamo alla fine andiamo al concreto se voi siete in campo cosa fate non applicate la matematica non cercate su google la la le regole dell'iperfocale eh quello che vi consiglio io di fare è di andare a prendere un punto che sia in un nella nella riga del terzo inferiore alla vostra composizione quindi supponiamo se noi la regola dei terzi ce la ricordiamo tutti se noi dividiamo nei due terzi eh orizzontali la nostra immagine una linea è questa io vi consiglio di andare a mettere a fuoco un punto che sta su questa linea io ad esempio qua penso di aver messo fuoco su queste rocce che si trovano si trovano qua facendo questo io come se lo se lo leggerete scoprirete non andrò a mettere a fuoco nel punto dell'iperfocale che che in questo momento non sappiamo neanche cos'è ma vi garantisce il frank che ci andrete in un intorno molto vicino e quindi vi permette mettendo a fuoco ancora una volta su un punto che sta sul terzo inferiore della vostra composizione avrete la maggior possibilità di avere tutto a fuoco se il vantaggio della fotografia digitale è quella che noi possiamo andare subito a vedere se effettivamente tutto fuoco o no quindi fate una foto andate a vedere sul lcd della vostra macchina fotografica se effettivamente è fuoco e se sì siamo a posto se no rifacciamo lo scatto magari variando il punto di messa fuoco e variandolo comunque di poco da qui o se proprio diventa impossibile la messa a fuoco allora dovremmo utilizzare tecniche più avanzate che sono come quella del focus stacking o cambiare composizione arriviamo veramente alla fine poi spazio alle vostre domande e parliamo un attimino di analisi dello scatto nel senso che quando noi andiamo sul nostro sul nostro computer a importare la macchina le foto che abbiamo scattato a quel punto lì è troppo tardi per dire a cavolo però non ho messo a fuoco a cavolo non è venuta bene la composizione quale sono cose che dobbiamo guardare immediatamente quando siamo in campo e abbiamo tutti gli elementi per farlo il vostro migliore amico in campo resta sempre l'istogramma che è la rappresentazione dei dati che sono stati catturati dalla diciamo dalla vostra macchina fotografica non esiste un istogramma corretto voi allora come visualizzarlo lo dovete trovare un attimino sul vostro manuale poiché chiaramente ogni macchina fotografica ha le sue modalità però andando nelle informazioni delle foto scattate dovreste avere una modalità in cui viene visualizzato e non esiste un istogramma corretto ma esiste un istogramma certamente sbagliato nel senso che quello che dovete controllare è che l'istogramma non tocchi nella parete sinistra nella parete destra della della vostra del vostro schermo perché altrimenti significherebbe che l'immagine o è sottoesposta e a questo punto avreste delle zone scusate devo star notire ok resisto o delle delle zone sottoesposte quindi la foto troppo scura oppure se sovraesposta avrete delle zone bruciate quindi molto importante la revisione di questo parametro e nell'atto pratico cosa facciamo in campo in campo dobbiamo fare due cose una sono l'analisi qualitativa e l'altra l'analisi quantitativa analisi qualitativa vuol dire che una volta che io ho fatto lo scatto in campo lo scatto in campo vado a vedere col display della mia macchina fotografica col display lcd andiamo a vedere se abbiamo fatto la composizione così come ci piaceva e mi raccomando andiamo a vedere la messa a fuoco perché ripeto quando siete a casa è troppo tardi per accorgersi che la messa a fuoco non è venuta bene quindi magari guardiamo la nostra immaginetta zoomiamo e andiamo a vedere che effettivamente sia tutto a fuoco il primo piano sia fuoco nel medio piano e sia fuoco sullo sfondo la seconda parte è fare quella che dicevamo prima un'analisi quantitativa ovvero della dei dati che sono stati effettivamente immagazzinati dalla nostra macchina fotografica e questo vuol dire fondamentalmente andare a andare a visualizzare l'istogramma visualizzare l'istogramma che come vedete in questo caso è un caso reale quello che vi sto facendo vedere questa è una foto fatta al display dell'lcd della macchina fotografica in campo come vedete non tocca né a sinistra non tocca né a destra quindi ho catturato tutte le informazioni della scena e a questo punto se queste tre cose vengono soddisfatte potete magari essere soddisfatti come sicuramente posso dire nel mio piccolo di essere stato io della della vostra della vostra foto del vostro paesaggio marino che esso sia in una bellissima spiaggia deserta della scozia piuttosto che sia nella spiaggetta dove state passando le queste vacanze in in italia con la vostra famiglia l'importante veramente divertirsi l'importante sperimentare e ora che siamo arrivati alla fine spero che di avervi dato anche qualcosa in più su cui lavorare per lo meno su cui studiacchiare approfondire per ancora una volta passare a meglio le vostre vacanze al mare in questa estate ancora particolare all'italiana bene allora intanto che prendo fiato vi invito a come sempre a chiedo scusa ma non resisto più vi invito come sempre a fare domande se ne avete e farlo attraverso il campo e nel mentre vi che vi sbizzarrite con le scritte con le domande se ne avete eh se che eh vi 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 dico una buona notizia cioè i ragazzi di apro ma store eh vi lasciano un'offerta che è valida da oggi sino al nove luglio che vi permette di avere lo sconto del cinque per cento sui sui monitor benchi presi da soli o in bundle eh con i i colorimetri quindi con i dispositivi per fare eh per effettuare la calibrazione eh inserendo lo codice di sconto che vedete qui ehm sul su questo sito lo lascio in sovraimpressione ancora un istante in modo da ehm da potervelo annotare comunque se andate sul sul sito di apro ma store lo lo troverete immediatamente e l'importante è appunto inserire al checkout questo codice bene ragazzi con questo siamo arrivati in fondo e io non posso fare altro che ringraziarvi eh di di aver partecipato a questa giornata didattica vi invito naturalmente a restare in contatto con me attraverso eh il mio sito scrivendomi la mail o ehm seguendomi su facebook e instagram altrimenti brucerete all'inferno no scherzo ehm è ok e quindi vediamo se ragazzi avete qualche domandina e intanto che bevo un goccio d'acqua per riprendermi dal panico del microfono che non andava e della connessione slide insomma che non andava vediamo ehm se viene fuori qualcosa intanto riattivo anche la mia brutta faccia con la mia brutta bottiglia d'acqua e benissimo allora 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 vediamo di andare in ordine dall'alto uh arrivano tante domande ragazzi adesso prendete in contropiede tanto ringrazio alexandra che mi sta aiutando allora ehm allora per avere più dettagli conviene sovraesporre in fase di scatto di Antonio allora ehm per avere più dettagli adesso è corsa via l'immagine per avere più dettagli conviene sovrasporre in fase di scatto la risposta è no nel senso che conviene fare l'esposizione giusta so che è una risposta del cavolo però è la risposta vera nel senso che eh è veramente innanzitutto conviene capire quali sono i limiti della nostra macchina fotografica ti ricordi l'iso eh il problema del rumore all'apertura delle ombre se io ho una macchina fotografica che eh soffre particolarmente di questo problema quindi apro le ombre e mi trovo le strisciate di di nightmare sullo schermo allora sì probabilmente è meglio stare leggermente più sovraesposti eh per non dover rischiare di eh aprire poi troppo le ombre io finalmente con la macchina fotografica che uso è appunto la Nikon D850 non ho questo problema e cerco di fare un'esposizione piuttosto bilanciata centrale se non addirittura leggermente sovraesposta perché so che aprendo le ombre non ho problemi e ehm soprattutto eh diciamo è meglio non bruciare mai è meglio avere una foto con qualche dettaglio d'ombra non recuperabile che avere una foto con dei dettagli bruciati perché l'occhio attratto dalle cose luminose e quindi sarà molto più infastidito da un pezzo di cielo bruciato che da una roccia una rocciolina un un cespuglio che non sono ben esposti allora poi andiamo andiamo in ordine abbiamo sforato 5 minuti di tempo ragazzi ma spero che mi perdoniate per i problemi di connessione eh solitamente allora solitamente programmi più composizioni per una location oppure ti concentri in una sola Andrea allora ehm difficile da dire dipende molto dal eh dal dal tipo di viaggio che hai però facciamo finta che indipendentemente dal viaggio che sia un viaggio fotografico a eh un un weekend con la ragazza al mare o facciamo finta che c'è un posto una zona di scatto allora quando sono nella zona di scatto faccio scouting sul posto per cercare quale sia la composizione migliore poi io personalmente pianto il cavalletto macchina fotografica e sto lì dall'inizio alla fine della sessione e non sono uno che si sposta perché perché la luce è imprevedibile quindi se trovo una composizione che mi piace veramente tanto aspetto per beccarla nella luce migliore perché poi lo sai se sposti la macchina fotografica comincia a fare la foto cambia la luce dici ah cavolo però mi piaceva più la composizione di prima corriamo indietro e sei di fretta la luce passa meglio fare le foto rilassati con calma e a seconda di quello che vogliamo fare se una passeggiata in spiaggia magari non abbiamo neanche il cavalletto non c'è bisogno possiamo goderci diversi scorci se andiamo con l'idea di fare i duri col cavalletto filtri e tutto il consiglio è tieniti in uno spot portatelo dall'inizio alla fine perché tanto due foto buone la stessa sera non le porti a casa oggettivamente lavora per una e una deve essere perfetta se poi non viene tanto ci dovrai tornare allora allora fai più scatti e poi li unisci o fai un solo scatto Antonio allora tutte le mie foto che avete visto finora e tutte quelle che trovate sul mio sito sono una singola esposizione perché uno perché sono una schiappa in post produzione e questo è vero però la ragione fondamentale è che io mi diverto tantissimo in campo mi piace stare nella natura mi piace fotografare la natura quindi io cerco di essere lì a catturarla al meglio con l'attrezzatura che ho a disposizione per farlo con una scatto singolo è sicuramente necessario utilizzare un attrezzatura che sono sicuramente i filtri senza i filtri non potrei quindi però è molto appagante perché poi quando hai uno scatto buono lo sai subito e quando lo metti sul computer la post produzione dura cinque minuti non è prendere cento foto metterle insieme e dire ok tiriamo fuori qualcosa la foto la fa in campo e è tua perché erai fatta lì io ti consiglio anche te di trovare allora 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 renzo renzo chiede nell'ultima tua immagine dove hai messo a fuoco sempre sul primo terzo orizzontale se sì con quale apertura il diaframma 8 11 allora intanto cerchiamo di capire la foto allora mi chiede questa probabilmente non so se puoi dirlo allora su questa foto la mia f è stato un f8 quindi chiuso ma non troppo perché perché i ciuffi d'erba qua davanti non erano particolarmente vicini e quindi riuscivo ad avere tutto a fuoco con f8 perché f8 non f11 perché f8 comunque è qualitativamente otticamente leggermente migliore di f11 perché perché l'ottimo della del corpo ottico dell'obiettivo sta intorno a 5 6 quindi 8 è più è meglio di 11 quindi l'ho fatta lì e la messa a fuoco lo si l'ho fatta sempre sul primo terzo orizzontale quindi sempre la regola appunto del dell'iperfocale ma comunque in generale messe a fuoco sul terzo inferiore ho messo a fuoco su questo ciuffetto qua onestamente adesso non vorrei sbagliarmi ma qua per qua e poi comunque uno prova ripeto va a vedere sull'lcd se è venuta e via bene allora vediamo se c'è tempo per qualche ultima domanda e vediamoci qua ci sono ancora due domande last two question ultime due domande pasqualino chiede consigli sulla gradazione del filtro nd nd quindi quello tutto scuro che serve solo per allungare i tempi vi consiglio di partire dall nd 64 6 stop perché quello che fa meglio scopa all'alba e al tramonto poi se dovete aggiungerne un altro vi consiglio magari quello da 10 stop che è uno dei più famosi oppure quello da 8 stop che è quello che mi piace molto usare quindi in questo momento sto utilizzando molto il 6 stop per proprio alba e tramonto in quel momento lì e l'otto stop che si chiama nd 256 per quando la luce ancora un pochino intensa quindi il classico momento in cui hai magari la foto che avevo fatto vedere prima ve la rimetto questo era un classico esempio ma in realtà anche questa che abbiamo appena visto questa è una foto scattata all'inizio dell'ora d'oro quando il sole era ancora alto quindi la luce era molto intensa con 8 stop sono riuscito ad arrivare a questo risultato allora l'audio chiede conviene utilizzare i filtri a lastra oppure a vite allora non ce n'è uno giusto e uno sbagliato normalmente si inizia con quelli a vite perché sono più pratici perché costa meno perché ne usi una alla volta però poi a un certo e quindi vi consiglio magari se non avete mai proprio preso in mano un filtro iniziate da quelli a vite e che spendete anche il giusto successivamente se vi piace giocare coi tempi insomma vi piace la fotografia coi filtri vedrete che sono un po limitanti perché diventa complicato metterne due insieme senza aver problemi di vignettatura piuttosto che quando dovete sostituirlo velocemente usarlo insieme al polarizzatore un filtro ne dia un casino allora quando cominciate un po più a prenderci mano sicuramente vi verrà anche naturale passare a dei filtri a lastra se è già un genere fotografico che vi piace la fotografia paesaggistica e vorreste incrementare un pochino vi consiglio se siete sicuri partite con quelli a lastra perché sennò tanto li prendete dopo e spendete due volte ok credo che questa sia stata l'ultima domanda se ne ho saltato qualcuno chiedo venia poi me le rileggo anche e vi rispondo se riesco se no vi prego contattatemi se c'è qualche domanda che non non sono riuscito a rispondere o se qualcosa non è stato chiaro sono felicissimo di rispondervi e e niente ragazzi io vi ringrazio davvero per questa serata che abbiamo passato insieme scusate due piccoli problemi che abbiamo avuto tra audio e video ma dovremmo averli superati da francesco gola è tutto e ci vediamo alla prossima questa volta spero in campo per scattare insieme qualche foto dai e aspetto che mi mandiate qualche qualche nuovo fatto di un paesaggio al mare magari che avete scattato con qualche consiglio che vi ho dato grazie a tutti grazie benchio grazie a promastora e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao